Buonasera, grazie di essere qui e di essere così numerosi. Prioritariamente coloro che sono qui per ascoltare Ali e Zani possono andare via perché come vedete non c'è. Quelli che sono venuti per ascoltare anche me o perché interessati al titolo di questo incontro possono restare il più comodo possibile perché mi dicono che la sala è molto affollata, io sono cieco e quindi sento le vostre voci ma non riesco a immaginare la platea che ho davanti. Quindi il titolo come sapete è Non sono razzista, ma incidentalmente è anche il titolo di un volume pubblicato da Feltrinelli è scritto da Federica Resta e da me, ma come immagino tutti o quasi i presenti sanno, è una formula del linguaggio comune che sempre più spesso si sente utilizzare. C'è un primo aspetto interessante, nel 1990, quindi già molto tempo fa, questa formula venne analizzata dettagliatamente da Laura Balbo, una sociologa molto fine che è stata la mia maestra e con la quale ho molto lavorato e molto scritto. Dico questo perché come tanti altri fenomeni legati a ciò di cui oggi parliamo, ciò che appare una dirompente novità spesso non lo è, è solo l'emergere più visibile e talvolta più violento di tensioni e tendenze, di processi e percorsi che hanno una loro storia, che sono nati perlomeno nella seconda metà degli anni Ottanta e che hanno attraversato i decenni successivi via via rafforzandosi e soprattutto diffondendosi. e tuttavia questa frase va attentamente considerata e addirittura puntualmente analizzata perché ci aiuta a comprendere tante cose. non sono razzista, consideriamo la prima parte conoscete forse un motto molto suggestivo una citazione colta che dice questo, esattamente questo l'ipocrisia è l'omaggio che il vizio rende alla virtù cioè l'ipocrisia contiene al suo interno il riconoscimento di una virtù rispetto alla quale si dissimula e pertanto quel dire non sono razzista significa molte cose primo, che tuttora nelle società democratiche e negli stati di diritto il razzismo costituisce ancora la definizione maggiormente riprovevole sotto il profilo morale dunque il razzismo conserva ancora una sua tonalità di disgusto ancora nella maggioranza cioè della società nazionale il razzismo rappresenta un elemento che serve a distinguere che cioè introduce un forte elemento di imputazione nei confronti di chi si dichiari o si comporti da razzista attenzione la persistenza di questa riprovazione morale tende a indebolirsi in genere si indebolisce attraverso tutta una serie di sottocategorie di interpretazioni fallaci di astuzie lessicali si sente dire ma insomma bisogna capire cos'è razzista forse che dire è razzismo forse che reagire così è razzismo in genere queste frasi introducono fatti orribilmente razzisti senza nessun equivoco e dunque anche questo primo significato così importante tende comunque a stemperarsi non solo non sono razzista contiene ancora un altro importante significato quello di voler affermare come si riconosca il valore universale e assoluto di alcuni principi quelli appunto che il razzismo nega ma ecco la precipitazione immediatamente dopo e quella virgola costituisce una sorta di salto logico e mentale politico ed etico si introduce la deroga si introduce l'eccezione cioè si fanno affermazioni che negano la prima non sono razzista ma gli albanesi sono tutti ladri non sono razzista ma certo i rumeni sono quelli che rappinano le ville questa serie di affermazioni che negano quella principale delle materie possono costituire un ventaglio pressoché infinite di variabili e attenzione possono essere applicate a tante altre materie vi faccio un esempio di quella che è la materia che più viene assimilata nel discorso pubblico e in quello domestico a quello relativa alla presenza degli stranieri e ditemi se non riconoscete immediatamente quello che sto per dirvi come una parte del linguaggio corrente non sono omofobo virgola ma certo i froci ormai sono una lobby potente in Italia come poche altre lobby attenzione molto interessante sia questa seconda affermazione sia la prima contengono un'altra attenuante trattino giustificativa giustificazione che è anche questa credo riconoscirete non sono razzista virgola ho tanti amici estracomunitari virgola ma gli albanesi sono tutti ladri non sono omofobo ho tanti amici gay ma certo il gay pride è qualcosa di insopportabile è il trionfo dell'esibizionismo ecco bisogna stare molto attenti dunque alla lingua io in genere ritengo che alla parola vada data la massima attenzione io penso addirittura questo è un grande tema di discussione che da almeno 200 anni coinvolge gli studiosi di molte scienze ovvero è la lingua che produce il senso comune o il senso comune che condiziona in profondità la lingua io propendo per la prima tesi ma non è questa ovviamente la sede per parlarne ma solo per dire che alla lingua bisogna prestare la massima attenzione se avremo tempo poi vi come dite racconterò qualcosa di molto istruttivo a proposito del termine clandestino ma non ho ancora finito su questa prima affermazione perché come vi dicevo abbiamo iniziato a riflettere su quelle formule tanti anni fa oggi quella formula si è fatta ancora più complessa questo complessa tanto per dare attenzione alle parole è uno dei termini ormai di cui si abusa quando non si sa definire qualcosa si dice complessa io direi complicata perché col trascorrere degli anni in questa frase non sono razzista ma noi abbiamo indagato fino al punto di ritrovare un altro significato inizialmente ci sembrava come dire sotterraneo occultato piano piano è diventato palese visibile addirittura prepotente noi pensiamo cioè che in quella frase ci sia anche una richiesta di aiuto una sorta di urlo di soccorso abbiamo interpretato sulla base di indagini che abbiamo compiuto di ricerche realizzate che quel non sono razzista affermato con tanta determinazione con tanta forza con tanta intensità emotiva rivendica un passato non razzista la condivisione di valori fino a un certo punto a un determinato passaggio storico ha il precipitare di una determinata condizione e quindi in quella frase si può leggere spesso in maniera trasparente una sorta dicevo di grido d'aiuto aiutateci a non diventare razzisti se voi pensate ad alcune delle scene diventate ormai una sorta di immagine standard un paradigma dialettico o se volette perché anche così lo si può leggere una sorta di gag melodrammatica ovvero il raggrupparsi di una folla dove è molto forte la presenza di donne di un quartiere popolare che soffrono la fatica della convivenza con gli stranieri e reagiscono con uno sbarrimento che rapidamente diventa intolleranza e aggressività se quelle scene che gli imprenditori politici dell'intolleranza gestiscono con maestria facendone il fondale dell'intera opinione pubblica italiana quasi fosse l'intera opinione pubblica italiana analizzando con attenzione quei momenti scoprirete che dietro molte di quelle invettive c'è esattamente questa richiesta aiutateci a non diventare razzisti e in questo c'è appunto la persistenza dovuta per esempio alla residuale influenza che nel nostro paese hanno avuto le grandi culture nazionali quella cattolica quella socialista quella appartenente al movimento operaio nel suo complesso che appunto interdicevano il razzismo c'è ancora la memoria di quelle culture e poi c'è una consapevolezza fragile pronta a trasformarsi nel suo opposto che coloro che vengono vissuti e ancor più vengono presentati come nemici forse sono tragicamente simili a loro ecco questa interpretazione di quella frase secondo me costituisce una novità importante attenzione non è necessariamente una novità positiva è però una fatto che merita non solo grande e seria attenzione ma merita interventi politici e ancora prima culturali perché dentro quella situazione ancora oggi è possibile intervenire ed è qui che voglio introdurre un'altra questione a mio avviso quella fondamentale oggi nel nostro paese ancora una volta se sentite numerosi discorsi pubblici che si vorrebbero indirizzati contro il razzismo spesso lo sono con una efficacia pari allo zero noterete come ci sono delle parole usate in maniera indistinta quasi fossero sinonimi le due parole che più soffrono di questa sovrapposizione del tutto immotivata sono le parole xenofobia e razzismo in genere gli oratori della domenica o quelli dei salotti televisivi elencano elencano i pericoli in un crescendo che in genere è un declinare crescendo perché si parte dalla parola più consueta e più usata e quindi bisogna battersi contro il razzismo la xenofobia e l'intolleranza queste tre parole vengono usate magari cambiandone l'ordine e soprattutto presentandole come l'uno sinonimo dell'altro termine bene nulla di più sbagliato c'è una ragione come dire statistica innanzitutto se tutte le manifestazioni di intolleranza e se tutte le manifestazioni di xenofobia fossero equiparabili al razzismo non c'è speranza non c'è scampo in altre parole siamo davvero perduti c'è semplicemente da cambiare paese sempre che siate in grado di trovarne una che con quei uno che con quegli stessi criteri errati dico io si potrebbe definire non razzista i due termini dicevo non sono assolutamente equivalenti xenofobia certo è parola non semplice non è la più corrente la più familiare al contrario per me che appartengo a una determinata etnia quella sarda già pronunciare quella se iniziale non è semplicissimo però quella parola è una parola esatta è una parola perfetta è una parola scientificamente capaci di aiutarci a analizzare e capire perché xenofobia significa paura dello sconosciuto direi sì dello straniero ma soprattutto dell'ignotto xenofobia significa questo bene in Italia la xenofobia oggi è molto diffusa la xenofobia in Italia si va diffondendo ma come anticipavo un attimo fa la xenofobia non è destinata né fatalmente né rapidamente a trasformarsi in razzismo la xenofobia è esattamente la manifestazione di un atteggiamento profondamente questo è il dato profondamente interno all'esperienza umana non mi interessa sapere se è un dato genetico probabilmente no ma certo nella storia dell'umanità quella da noi conosciuta sempre presente e corrisponde a una pulsione profonda questa pulsione profonda si manifesta con più forza in presenza di determinate circostanze ad esempio quando il numero di persone appartenenti usiamo ancora quel termine all'ignotto si accresce cioè quando all'interno di una comunità di conosciuti si introduce un numero attenzione crescente disconosciuti qui si crea un sentimento che poi si tradurrà in atteggiamento e a questo sentimento e a questo atteggiamento ritengo che nessuno possa sfuggire cos'è questo sentimento è uno stato di smarrimento che facilmente diventa sospetto verso l'estraneo e diffidenza queste tonalità smarrimento sospetto diffidenza sono ancora ben lontani dal razzismo ripeto non destinati automaticamente fatalmente dicevo e rapidamente non destinati a trasformarsi in razzismo ma certo possono trasformarsi in razzismo quei sentimenti atteggiamenti crescono dicevo in presenza di una categoria che per gioco possiamo chiamare troppità cresce il numero sono troppi sono troppi è una delle parole più diffuse una delle frasi più ascoltate sono troppi è in presenza poi di un altro fattore addirittura determinante decisivo discriminante legato alle condizioni economico sociali come sapete si compie nel 2018 un decennio di crisi economica sociale che ha colpito tutto l'occidente e l'Italia con una particolare violenza in questa condizione quello che viene messo per prima in discussione è la sicurezza attenzione la sicurezza non è quella che si vuole combattere con le telecamere l'insicurezza è davvero in primo luogo uno stato d'animo una condizione vorrei dire se non vi spaventa il termine una condizione spirituale e quel sentimento di precarietà che va dalla mancata garanzia del posto di lavoro fino a quello che costituisce il cruccio fondamentale la prima ragione di inquietudine il destino dei propri figli guardate c'è un elemento che ormai viene citato stancamente però invece è decisivo e a partire dal 2000 quindi da un tempo ancora relativamente breve che per la prima volta il destino dei figli inizia a manifestarsi e già a concretizzarsi in una sorte peggiore di quella dei propri padri capite come di conseguenza l'insicurezza del futuro sia un fattore di mobilitazione delle ansie collettive dell'angoscia sociale dell'inquietudine diffusa davvero potentissima ma allora se si diffonde questo stato di insicurezza e se a questo stato di insicurezza si vuol dare una risposta voi pensate possibile che quegli strati che quella condizione vivono possono indirizzare come la loro invettiva la loro mobilitazione la loro collera per esempio la loro azione pubblica contro che so JP Morgan il fondo monetario internazionale Wall street sono entità non solo astratte ma come dire lontane lontanissime e soprattutto intangibili non raggiungibili questo è un dato molto importante intangibili non toccabili allora come sempre accaduto nella storia si cerca si trova e si assume come bersaglio il nemico più prossimo e riprendo il nemico tangibile perché è lì a portata di mano può essere appunto toccato con tutto ciò che ne consegue e la logica che voi conoscete benissimo è che quella del capro espiatorio il capro espiatorio attenzione può anche essere un'entità lontana un nemico sovranazionale che eccita le fantasie paranoiche e gli incubi complotistici ma questo riguarda una minoranza per gli altri per la gran parte degli altri il capro espiatorio deve essere qui a portata di mano bene nella storia recente dell'italia non c'è stato un capro espiatorio scusate questa parola migliore dello straniero e dello straniero irregolare assume in sé tutti connotati tratti fisici psicologici sociali materiali del nemico di colui che estraneo alla nostra comunità rappresenta per la nostra comunità un'insidia questo meccanismo così elementare sta all'origine di gran parte dei conflitti etnici che si sono sviluppati in Italia dicevo e cito solo rapidamente questa conclusione che adesso propongo dicevo la xenofobia che a mio avviso bisogna avere la forza di definire tale non è destinata fatalmente rapidamente a diventare il razzismo però in quello spazio che sta tra xenofobia cioè diffidenza sospetto e razzismo aggressività violenza discriminazione quello è uno spazio che come dicevo si è molto ampliato ma la cosa importante ancora più importante che in quello spazio almeno da quando io ho iniziato a interessarmi di queste tematiche in quello spazio nei decenni recenti in Italia hanno operato politicamente solo gli imprenditori politici dell'intolleranza e ancora una volta vi dico che questa formula oggi diventata di moda è stata usata esattamente nel 90 90 91 perché già allora abbiamo individuato questo deserto di azione pubblica di organizzazione collettiva di capacità di ascoltare le condizioni di sofferenza di strati popolari assai ampi e di intervenire politicamente con contromisure la prima di queste contromisure mi scuserete se lo dico in maniera così sintetica che può apparire grossolana la prima di queste misure ovviamente è individuare gli interessi e i bisogni comuni tra residenti e stranieri è una frase generica lo so è una prospettiva non solo lunga ma lunghissima ma è la sola via percorribile o si individuano per esempio a proposito delle abitazioni per esempio a proposito dei servizi i bisogni comuni tra ultimi e penultimi oppure sarà inevitabile che i penultimi muoveranno guerra agli ultimi qui lo dico non perché sto facendo un'orazione politica ma perché forse qualcuno sa a quale campo io appartenga qui il mio campo ovvero la sinistra registra un fallimento lungo 25 anni da questo fallimento siamo ancora lontani dal trovare la capacità di ripartire siamo ancora lontani dall'avere la capacità di indagare a sufficienza e credo che da questo fallimento si possa ricavare molto del senso del voto del 4 marzo scorso questo è diciamo qualcosa che spero ci aiuti a considerare le questioni che nascono da quella frase non sono razzista ma in una dimensione non setaria non retorica soprattutto non declamatoria e non ideologica però sempre assenta lì Sani quindi i suoi tifosi fanno ancora in tempo uscire allora però le questioni sono davvero tantissime io ho parlato di imprenditori politici dell'intolleranza i nomi sono nomi che stanno sulla bocca di tutti è chiaro che in questi anni hanno operato gruppi fascisti e neofascisti gruppi nazisti gruppi leghisti e neo leghisti ma quello che ha costituito il salto davvero più drammatico è stato quel processo di legittimazione della parola razzistica che nel corso di questi 25 anni lentamente ma profondamente si è realizzato e torniamo al discorso da cui sono partito dicevo dicevo il razzismo non si porta in società meglio non si portava perché subiva quel veto politico quell'interdizione morale di cui parlavo ora non è più così e non è più così meno per quelli che un po' come dire superficialmente vengono definiti discorsi da bar e molto più per il discorso pubblico istituzionale allora vi volevo raccontare quello che per me costituisce un passaggio davvero importante e che in quel libro che prima ricordavo ha questo titolo Roberto Calderoli e il razzismo della della bonomia tutto parte da un comizio tenuto da Roberto Calderoli a Treviglio nel luglio del 2013 forse molti ricorderanno qualcosa in quella circostanza Roberto Calderoli rivolgendosi una piccola folla entusiasta disse queste parole ho visto su internet la foto di Sil Chiang e ho trovato in lei sembianze di orango queste sono le parole testuali sembianze di orango se avremo tempo io dirò perché queste parole sono come dire indicibili cioè superano un limite che l'uomo più tollerante del mondo che ho la presunzione di essere io no cioè quello che in genere fatica enormemente a condannare qualcuno e ancora più enormemente a chiedere la privazione della libertà però quella frase lì indusse me a votare contro Roberto Calderoli Calderoli pronuncia quella frase un po' di tempo dopo cioè nel settembre del 2015 si discuste nell'aula del senato la richiesta di un tribunale di processarlo per istigazione all'odio razziale il senato a numero completo diciamo il plenum è di 315 persone più qualche senatore a vita non raggiunge raggiunge i 320 quel giorno un certo numero di persone erano presenti credo che complessivamente fossimo 280 persone la votazione da questo risultato 45 votano a favore dell'incriminazione di Roberto Calderoli gli altri parentesi appartenente a tutti i partiti virgola ma proprio a tutti chiusa parentesi votano a favore sì a favore di Calderoli o si astengono se fosse finita qui sarebbe stata semplicemente una pagina non vergognosa ma infame della storia parlamentare ma succede che Roberto Calderoli chiede la parola in questo libretto noi abbiamo analizzato il discorso di Calderoli non parola per parola pausa per pausa punteggiatura analizzata anch'essa il discorso è uno strepitoso esempio di letteratura dell'orrore di quelli da mettere in un'antologia del genere e che davvero istruttivo consultare leggere e pensarci su la versione di Calderoli è la seguente primo il giorno dopo immediatamente inviai come dice lui un grande cestino di fiori a Cecil Chiang ma lei forse perché non è una donna spiritosa non accettò le mie scuse pensai comunque che le cose si fossero risolte perché ancora non era stata presentata denuncia nei miei confronti e io intervistato da qualcuno avevo ribadito il mio sincero rincrescimento di una persona che non può essere definita in alcun modo razzista però cosa succede dopo racconta sempre Calderoli succede che nel Congo più profondo dove abita il padre di Cecil Chiang questo padre adesso mi manca il termine ma il significato è quello fa una macumba nei miei confronti e qui qui dovrebbe uscire una ce l'avete un display con scritto tutto vero tutto vero tutto vero da qui le mie disgrazie passano pochi giorni e mi rompo una gamba passa qualche mese e muore mia madre passano ancora alcune settimane e io torno a casa la sera apro la porta del salotto a piano terra e vi trovo due enormi serpenti io recupero un coltello mi difendo e uccido entrambi i serpenti poi cosa faccio li prendo e me li metto al collo mi faccio fotografare e metto la mia foto su facebook e qui la sfiga più sfiga di tutti gli animalisti mi denunciano tutto vero tutto vero tutto vero tutto vero ma questo guardate è solo l'incipit questa pagina di letteratura dell'orrore contengono un messaggio subliminale che io ritengo massimamente insidioso perché tutto quindi tutto ciò che il razzismo contiene ed evoca viene ridotto alla misura della banalità quotidiana tutto diventa diventa dozzinale ordinario domestico e tutto diventa come dice il titolo di quel capitolo bonomia diventa divertimento tra amici vernacolo spassoso battuta salace cioè qui quello che molti di noi e credo anche dei presenti considerano il male assoluto è un male che non ha la forza di mostrarsi tale il grande male si manifesta in genere in tutta la sua potenza criminale luciferina demoniaca cioè si presenta in tutto il suo peccato qui no il male qui si nasconde si ritrae si occulta si dissimula e diventa motto di spirito appunto tutti sanno hanno letto hanno sentito parlare diventa la banalità del male la sua riduzione a un incidente linguistico e questo io penso sia una delle maggiori minacce per la tenuta di uno spirito democratico e dico spirito qui intenzionalmente cioè di una tonalità dell'anima del carattere delle persone della psiche e tuttavia non finisce qui perché non finisce qui perché a un certo punto Roberto Calderoli ha come un sussulto voi direte una resipicenza forse non so allora dice che quelle parole gli sono sfuggite qui il discorso diventa serio e anche io cambio tonalità e le parole gli sono sfuggite perché in quel momento egli non era lucido e non era lucido perché si sottoponeva a chemioterapia bene io ritengo che questa sia stata una delle frasi non esagero più scellerate mai pronunciate in una sede politica sarebbe come se io a un certo punto qui mi mancasse la parola non potesse andare avanti e dicesse scusate sono cieco ho fatto una figura di merda ma insomma capirete cioè quella sua condizione dal punto del vista della salute terribile e che tutti sanno essere terribile e che nessuno mette in discussione sia un fattore pesante pesantissimo francamente non può essere ridotta a un escamotage non può essere piegata a un uso così strumentale solo ed esclusivamente per giustificare o attenuare il senso di un'infamia politica ecco qui io penso che Roberto Calderoli nel rivelare quello che egli riteneva un lato umano abbia invece toccato il fondo a questo vanno aggiunte due piccole e ulteriori glosse dopo poco Roberto Calderoli poco intendo poche ore ritirò decine di migliaia di emendamenti che aveva presentato e che avrebbero ostacolato fino a rendere forse non approvabile un determinato provvedimento e dunque quel voto a lui favorevole si spiega anche però non solo come dirò tra un attimo anche all'interno di un semplice elementare scambio politico ma non è solo questo perché io posso aggiungere che secondo me in ogni caso sarebbe stato assolto dall'aula del senato e il motivo è un altro che in quell'aula del senato Roberto Calderoli che in questa nuova legislatura è ancora vicepresidente del senato gode di un straordinario prestigio per un motivo solo perché conosce a memoria il regolamento guardate è così se voi incontrate un senatore medio di cultura politica media non ci interessa il partito vi dirà che mediamente Calderoli esagera che mediamente dice delle bestialità e però conosce così bene il regolamento frase da me sentita io sono stato parte di quel senato fino la scorsa legislatura ho sentito decine centinaia di volte ripetere ancora una volta devo dirlo da parte di senatori esattamente di tutti parentesi ma proprio di tutti i partiti politici lì rappresentati ecco questo è diciamo importante perché voi capirete come quella soluzione dal punto di vista simbolico ma come sapete i simboli hanno una potenza che noi spesso sottovalutiamo ma una potenza davvero capace di formare le menti e di orientare i gusti le preferenze le scelte bene quella pagina del senato mostra cosa significhi legittimazione istituzionale del razzismo con quel voto e con quel discorso di Roberto Calderoni il razzismo non entra la prima volta c'era già intratto ma conosce il suo spettacolare e definitivo trionfo in una sede istituzionale potete immaginare quali effetti disastrosi tutto ciò può produrre nel senso comune nella mentalità diffusa ecco come le cose tendono a ritrovarsi e a a combinarsi insieme non lo so grazie io posso andare avanti che ora è? eh? grazie 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 mille eh? sì 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 grazie davvero siete gentilissimi mi dispiace per i tifosi di Ali Esani ancora una volta spero che stia benissimo e che non ve l'aveva fatto sentire troppo distante e che la sua assenza non vi abbia troppo danneggiato siccome abbiamo iniziato con un quarto d'ora di ritardo credo che ci meritiamo giusto? un quarto d'ora dedicato a voi se voi ovviamente vorrete utilizzarlo nel senso che a questo punto c'è quella fase terrificante che c'è qualcuno che vuole vuole fare delle domande? io l'ho detto se volete farlo io sono a disposizione se noi inizi a parlare concludiamo alle 20 e 30 buonasera buonasera e non è un caso che la crisi economica che è congiunta a una crisi del lavoro mostri uno spirito più intollerante verso chi viene da fuori proprio perché è il lavoro che normalmente consorzia le persone. nella mia esperienza molto basica io ho fatto anche l'autista per un idraulico e portavo degli operai a lavorare e lì non c'era discorso nazionalità lì c'era un discorso di lavoro comune e quindi volevo sentire la sua opinione visto che il dibattito pubblico ruota anche attorno al concetto che chi viene da un altro paese non dovrebbe lavorare o comunque quello potrebbe essere configurato o come uno sfruttamento o come d'altra parte chi lo critica anche un privilegio cioè perché dobbiamo trovare il lavoro per chi viene da fuori però in realtà è il lavoro comune che normalmente dissipa o dissipa le differenze praticamente non è una domanda prima di tutto un ringraziamento per le sue parole specialmente e il discorso no non è una domanda è un ringraziamento poi siccome noi io sono dell'origine dell'afghanistan avremo anche un panel domani quindi per i presenti chi sarà interessato perché anche l'autore che non c'era oggi magari si proprio della stessa etnia anche noi siamo venuti qui dell'etnia di Hazara non so quanto conoscete o meno quindi si solo era questo domani alle 17 qualcosa saremo qui si ormai sono qui da 10 anni sono diventato un cittadino italiano grazie mille grazie volevo ricordare in proposito che purtroppo non è stata con noi questa sera Ali Ezani come ha ricordato il suo compatriota è afghano è un bravissimo scrittore e ha pubblicato presso Feltrinelli un romanzo autobiografico dal titolo La notte guardavamo le stelle ora siccome io credo non molto ma infinitamente nella potenza della letteratura vi invito davvero a leggerlo mi dicono che i libri sono qui prego ci sono altre domande? ok ok va bene salve e anche io volevo ringraziarla che ho trovato molto interessante comunque la tematica proposto e invece volevo chiederle più che altro una volta affrontato il problema volevo chiederle una soluzione soprattutto per questa problematica di comunque quelle che possono essere i ceti economicamente più in difficoltà per renderli più coscienti di quelle che possono essere le vere origini delle problematiche che li affliggono piuttosto che semplice odio verso i ceti ancora più in difficoltà rispetto a loro perché comunque io scrivo per il mio giornalino cerco spesso di intervenire per informare anche i miei coetanei che riguardano queste tematiche ma noto che è particolarmente complesso quindi credo che comunque comunque questa sia la via da mantenere capire come fare a far capire il vero problema e volevo sapere se lei chiarissimo come vogliono loro se lo dimentico come le ricordate ma meglio che risponda tutte insieme no? io volevo fare una domanda di attualità siccome abbiamo trattato sul nostro giornalino scolastico del tema dell'omicidio di DDN a Firenze visto che siamo di Firenze e siccome è stato un tema che ha suscitato uno strascito di polemiche diciamo inaudito anche all'interno della nostra scuola io volevo sapere cosa pensa lei rispetto all'omicidio di DDN è stato razzismo, non è stato razzismo grazie sono io siamo proprio a scuola buongiorno io vorrei fare una domanda più di carattere quasi economico ha fatto un esempio dei ceti gli ultimi e i penultimi io vorrei vederla dall'altra parte nei ceti di alta borghesia e in media alta borghesia c'è comunque il problema del razzismo e se c'è è comunque così pronunciato? grazie bene mi aiuti ecco allora cerco di seguire l'ordine dei quesiti che mi è più facile forse la prima domanda la prima domanda molto interessante perché contiene una sua risposta come dire come nella settimana enigmistica una risposta celata tra le parole che pongono il quesito il lavoro il lavoro è posta in gioco quindi materia di conflitto ma allo stesso tempo è una via fondamentale per la soluzione dei conflitti quindi guardate fino a dieci anni fa tutto è cambiato con la crisi fino a dieci anni fa si poteva serenamente affermare che in Italia la competizione tra residenti e immigrati non riguardasse il posto di lavoro poteva essere aspra per esempio intorno ai servizi le abitazioni i mezzi di trasporto ma soprattutto tenete bene a mente questo gli spazi tanti conflitti nascono dalla contesa intorno agli spazi e quella categoria maccheronica di troppità che dicevo prima negli ultimi dieci anni ci sono invece questo va detto accesi conflitti per il posto di lavoro ad esempio in alcuni reparti del nostro comparti del nostro sistema economico per esempio nel lavoro dei porti quindi quella forza lavoro impiegata in attività pesanti nel trasporto via mare lì in alcune aree del paese c'è una competizione che ha assunto toni persino violenti dovuti al fatto elementare che la manodopera straniera viene pagata con salari più bassi di quelli previsti dai contratti e di quelli richiesti dalla forza lavoro italiana potete immaginare quali effetti devastanti ciò può avere crea disoccupazione tra gli italiani e complessivamente abbassa il livello salariale di quel comparto dell'economia nazionale l'introduzione di un numero rilevante di stranieri lì ha questi effetti produce disoccupazione abbassa il livello salariale nulla di questo accade in altri settori perché sono settori da decenni abbandonati dalla forza lavoro italiana il caso più noto più analizzato più indagato è quello del braciantato agricolo dove il ricorso alla manodopera straniera è stata l'unica forma di sopravvivenza che quei settori agroalimentari in particolare hanno potuto avvalersi per sopravvivere e in qualche caso per svilupparsi ma la questione del lavoro resta fondamentale come si risponde a questo a mio avviso è chiesto ai sindacati di fare uno sforzo straordinario i sindacati devono arrivare a coprire la grandissima la maggior parte la totalità tendenzialmente di tutto il lavoro subordinato subordinato perché solo così la presenza di lavoratori stranieri non diventa competitiva perché sarà il sindacato a garantire i diritti fondamentali del lavoro e livelli salariali minimi previsti contrattualmente questo può realizzarsi anche se chiaramente è come si può dire la prova più difficile ad esempio ci sono settori come quello della logistica ma anche dell'agricoltura che ha visto lo svilupparsi di nuovi sindacati sindacati di base nella logistica così come in agricoltura così come in alcuni settori dei servizi cominciano ad essere presenti io vedo tutto ciò con molto favore anche lo sviluppo dei sindacati non confederali cioè non CGL CISUIL perché a mio avviso possono arrivare a garantire quelle due condizioni tutela dei diritti fondamentali del lavoro livelli salariali non abbassati per la competizione messa in atto dal lavoro nero o dal lavoro che accetta salari ridotti ma e questo conclude con le parole di chi ha posto l'interrogativo il lavoro è anche il luogo dove si crea comunanza condivisione solidarietà perché qui ed è una parentesi che vale per tutti i discorsi che abbiamo fatto tanto più per il lavoro noi tutti io per primo che oggi non ho ricordato questo dato fondamentale tendiamo a dimenticare cos'è la demografia allora sapete quanti sono coloro che rappresentano in diverse articolazioni la minaccia sociale come la definiscono altri diversi da me dell'immigrazione cioè sapete quanti sono coloro che delinquono vivono nella marginalità arrivano a sbarcare in Italia non hanno i documenti stanno nei C e negli hotspot sapete quanti sono in tutto? 500.000 sapete quanto sono gli stranieri regolarmente residenti in Italia e molti di questi anche da 10 20 30 anni sono 11 volte tanti cioè sono 5.500.000 di questi 5.500.000 non parliamo mai ripeto io per primo questi 5.500.000 per tornare alla domanda sul lavoro sono quelli che lavorano fianco a fianco a noi un numero crescente meno male finalmente anche nel settore impiegatizio tantissimi nei servizi tantissimo nelle industrie e la maggioranza nell'industria più nocive come la siderurgia lì le differenze tra italiani e stranieri tendono a ridursi ma sono anche i luoghi dove il sindacato garantisce una tutela condivisa comune i figli di questi sono quegli 850.000 minori presenti nell'intero sistema pubblico scolastico italiano 850.000 come vedete questi 850.000 e quei milioni che lavorano regolarmente contribuendo per l'8% al prodotto interno lordo e contribuendo in maniera significativa al sistema previdenziale italiano quelli sono già integrati e non ci sono manifestazioni contro di loro allora da qui derivano tantissime cose che fatti salvi delinquenti abituali una politica intelligente è quella che regolarizza non che lascia nell'irregolarità anzi aumenta i dispositivi dell'irregolarità ecco perché il lavoro come diceva il vostro collega è fattore fondamentale di condivisione quindi di comune accoglienza quindi di reciprocità quindi di convivenza pacifica poi qual'era la seconda domanda no al signore afghano ho già risposto proponendovi la lettura del libro del suo compatriota poi c'era aspettate qualcosa forse c'era e dunque lavoro si si ho capito 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 allora siete ormai abituati persino i ventenni a sentirvi dire ma non è necessariamente un imbroglio qualche volta lo è non sempre lo è che la soluzione non esiste o in maniera più ragionevole che la ricetta miracolosa non esiste sicuramente la ricetta miracolosa non esiste però io vi propongo due soluzioncine che io ritengo fortissime però per non darmi troppe aria perché come è noto chi si loda si imbroda allora ve ne dico una da evitare scappando a gambe levate e quindi il rovescio di quella sbagliata ci aiuta a capire quale può essere quella giusta io di mestiere sono un sociologo quindi ho analizzato con gli strumenti della sociologia tanti casi di conflitti etnici un nome tanto per dire le tensioni spesso anche aggressive tra italiani e residenti l'ultima di cui mi sono interessato riguardava un quartiere di Roma detto Tor Sapienza Tor Sapienza costituisce un esempio addirittura paradigmatico di quella che io chiamo la toponomastica della marginalità sociale cioè la mappa qui forzo un po' perché dentro Tor Sapienza ci metto tante altre situazioni quelle che per esempio studiavo vent'anni fa a Milano o altre esplose di recente in Campania in in Emilia pensiamo però a una situazione come quella che un po' perché corrisponde puntualmente alla realtà un po' perché è utile forzarla perché se ne tragano lezioni chiamiamo Tor Sapienza si arriva a questa borgata di Roma attraverso un lungo stradone privo di qualunque struttura privo di verde diventato come tanti altri stradoni uno spaccio a cielo aperto di sostanze stupefacenti da questo stradone si arriva al quartiere vero e proprio questo quartiere in origine era dal punto di vista sociologico piccolo borghese a prevalente composizione impiegatizia da allora cioè dai primi anni cinquanta cosa è successo è successo così io ho ricavato dall'indagine fatta negli uffici del comune cosa è successo è successo che da allora a oggi non è stata realizzata alcuna opera di manutenzione dunque le case e i palazzi che avevano un loro decoro e che alludevano a un'eleganza piccolo borghese in questi decenni hanno subito un degrado rovinoso dopodiché in questo quartiere proprio a portata di vista quindi prossimo c'è un palazzo occupato da abusivi attenzione italiani soprattutto e stranieri appena sollevando lo sguardo un po' più in là si vedono diciamo non le costruzioni ma diciamo i segni come dire le strutture di un campo nomadi lontano per fortuna lontano ma non a sufficienza per evitare che ne arrivino le zaffatte esiste un inceneritore in questo spazio dentro quest'area essendoci un palazzo non abitato vi vengono collocati da un giorno all'altro 150 richiedenti asilo di tutte attenzione di tutte le etnie di tutte le età ci si può sorprendere che in questa situazione il clima di diffidenza diventi sospetto e che grazie all'agitarsi di alcuni facinorosi diventi poi violenza io penso che sia una reazione sbagliata profondamente sbagliata da sanzionare certamente ma decisamente comprensibile allora ecco la soluzione sbagliata che si può rovesciare il rovescio di questa situazione sbagliata ci aiuta a considerare l'altra soluzioncina che è molto robusta cosa vuol dire che l'errore più grave è addensare esseri umani in un aggregato indistinto in una quartiere che di quell'aggregato nulla sa e nulla conosce e che ne vede solo la rappresentazione minacciosa la xenofobia paura dello sconosciuto dell'ignotto ma questo un altro effetto in genere non considerato il peggioramento drastico delle condizioni di vita dei richiedenti asilo che si trovano tutti rinchiusi in uno spazio ristretto ammassati in quello stesso spazio alla lettera l'uno sull'altro se l'indirizzo fondamentale di una politica per l'immigrazione migranti richiedenti asilo prevedesse che gli stranieri fossero distribuiti con intelligenza e con equilibrio sul territorio per piccoli aggregati per unità familiari o plurifamiliari per gruppi parentali o amicali per piccole unità etniche tutto cambierebbe i residenti vedrebbero una famiglia due famiglie una comunità di 15 persone che immediatamente sarebbero capaci di entrare in relazione con i residenti e questo cambierebbe completamente lo scenario del loro sistema di rapporti ecco da qui nasce la seconda soluzioncella in Italia i comuni sono 7.978 cioè tutti i comuni d'Italia di tutte le misure sono 7.978 alcuni di voi forse conoscono questo acronimo SPRAR sistema come il pubblico protezione per e di accoglienza per richiedenti esilo SPRAR e rifugiati Sistema di protezione per no di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR allora questo sistema che è un sistema pubblico nazionale state a sentire prevede esattamente quello che si ricava dal rovesciamento speculare del paradigma tor sapienza ovvero prevede proprio quello che abbiamo detto la distribuzione intelligente ed equa dei migranti e dei richiedenti asili sul territorio in piccole piccolissime comunità perché non lo sapete o pochissimi lo sanno ad esempio in Italia sono alcune centinaia di migliaia pensate un po' le persone di pura razza italiana che accolgono stranieri nella propria abitazione sono decine di migliaia le famiglie e questo è un metodo ma poi ci sono soluzioni tutte però affidate ai piccoli numeri allora 7.978 i comuni italiani 1.340 quelli che hanno dotato lo SPRAR facciamo sì 1925 credo che sia l'ora non è quella non è il numero dei richiedenti asili finisco allora per capirci solo un comune su sei accoglie con questo sistema ma la conseguenza è molto semplice che su quell'uno viene scaricato il peso di quei sei inadempienti ecco questa è qualcosa che se fosse invertita anche in dieci anni aiuterebbe a trovare una soluzione rapidissimamente se non mi menano quale sono le altre domande? Firenze sì sono queste due do una risposta rapidissima a entrambe Firenze ho studiato a lungo la vicenda grazie a persone di Firenze ritengo che non si non si sia trattato di un atto di razzismo non si sia trattato si sia trattato di un'azione compiuta da una persona in quel momento incapace di intendere di volere che presentava una patologia da lungo tempo ma ecco il punto non tutti lo hanno notato è il terzo morto nel corso di dieci anni è inevitabile che una frequenza così come dire incalzante di omicidi possa far pensare alla comunità delle vittime che si sia trattato di un atto di razzismo per quanto riguarda l'ultima domanda e finisco davvero diciamo così primo la borghesia se questa definizione può essere utilizzata perché le classi sociali come sapete si sono molto frammentate in questi decenni la borghesia non trova elegante ricorrere a parole razziste in certi casi i più sordidi preferisce che altri anzi delega altri a pronunciare quelle parole ed è l'atteggiamento di settori della borghesia nei confronti della lega hanno delegato alla lega il lavoro sporco altri settori sono vivono in una condizione talmente garantita e protetta che poco sanno dell'esistenza di sei milioni di stranieri nel nostro paese ed è proprio così ma e qui concludo davvero proprio 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 il punto di partenza di tutti i miei ragionamenti quelli delle persone che lavorano con me e non da oggi ma appunto dai primi anni 90 si può riassumere così la domanda l'Italia è razzista o Perugia è razzista o macerata è razzista è una domanda totalmente idiota meglio è una domanda scema che contiene una leggera ma non per questo scusabile tonalità razzistica perché adotta esattamente la procedura della dialettica razzista cioè attribuisce a una comunità i comportamenti di un membro della comunità se a macerata un delinquente spara sugli stranieri macerata diventa una città razzista la domanda questo è il mio messaggio finale la domanda l'Italia è razzista è una scemenza totale in Italia ci sono i razzisti questi richiedono a mio avviso una battaglia politica e culturale a viso aperto perché anche questo non si è fatto in maniera adeguata attenzione quella che voi o qualcuno di voi può pensare essere un mio atteggiamento moderato cioè cercare di spiegare che i razzisti in Italia sono ancora grazie al cielo pochi e che l'axenofobia non è inevitabilmente destinata a trasformarmi in razzismo se questa mia interpretazione può sembrare moderata vi dico subito che nei confronti dei razzisti io sono per l'intolleranza il grande teorico del liberalismo contemporaneo Karl Popper scrisse un saggio meraviglioso che ha questo titolo bisogna essere tolleranti con gli intolleranti la sua risposta è stata no nel mio piccolo e modestissimo ruolo la mia risposta è uguale grazie a tutti grazie mille grazie mille per un attivista di Amnesty International l'anità energia grazie mille grazie mille